Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, ma prima di iniziare metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video. Iniziamo subito! Oggi sono in un posto spettacolare, sono con il mio amico Manuel, ciao Manuel facci un saluto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Qua abbiamo una, Manuel sta pescando con una Savage, vero Manu? Sì, SG4 310 grammi e Mulinello 1000 Diva Excellent, molto leggero, molto leggero. A differenza di Manuel io cercherò di fare una pesca un po' più pesante, così da alternarci e vedere qualche risultato in pesca. Per quanto riguarda la mia attrezzatura mi sono portato la Creed, questa è la 20-50 della Favorite e anch'io l'Exceler però una taglia 4.000. Bene, andiamo in pesca e vediamo cosa succede. Abbiamo Manuel che ha preso una tracina, mi sa, tracina? Aspita, bella, bella grossa, all'Ai, che bella. Madonna, occhio che questa è il sorprendizione. Bella, bella grossa. È così grossa, ma è? Bella, veramente proprio bella. Vediamo se si calma. E naturalmente questa la liberiamo per mano. Sì, sì, assolutamente. Calmate, calmate, calmate un po' che vogliamo fare. Una foto. Mamma mia. È bella proprio, grigia. Guarda il pungiglione che c'è. Bella, veramente bella. 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 Perché è meglio non toccarla. Perché c'è un altro, c'è due pungiglioni. Tieni, ti tengo io la canna, tieni. Andata, eccola. Allora, vai. Almeno non brivido l'hai avuto. Ed ecco qua. Abbiamo un garango per Manuel. Mangiano sul piccolo, hai visto? Ecco, bello il garanghetto. Libero. No, quando ero... Ecco qua. Ho preso un aluzzo. Per me lo slamming da sole. Può darsi. Ah, forse sì. No, no, abbiamo uno di l'artificare. Occhio. Eh, lo so. Ma ci si chiamano le angolette. Sì, esatto, lo vediamo. Un bel aluzzo. No, per questo uso sempre le forbici. Staccamene una da quella parte. Allora, con la favorite script. L'exceler. Avevo la videocamera spenta, però l'abbiamo accesso. E questo è il Tide. Tide 140. Sì. Ah, pensavo me le lanciaste. Ah, ma che sono i bombetti. Me le vuoi lanciare? No, no, no. Eh, ma non lo so se... Eh. Sì. Mi sa che gli ho... Travigato la bocca, mi sa, guarda. Lo liberiamo. E lo rilasciamo. Mi sa che... Non so se si riprenderà. Sì, si è ripreso. Ripreso. Andate. Avevi ragione. Da questa parte c'erano gli aluzzi. Ragazzi, ecco le pescate. Che fine fanno? Ecco qua. Siamo con Manuel. Francesco. Migliori scappotti sono questi. Ragazzi, con Manuel seguiteci. E seguite anche Francesco il suo canale YouTube. Zizzo. Ok? Poi ve lo scrivo anche in descrizione. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Grazie a tutti.